Signore, questa seggiovia si può prendere a tornare giù, ah, perché ci sono due, quattro cancelletti, ah, grazie, sto resistendo. Non c'è scritto da nessuna parte, non so, ma secondo me è un doppelmire di metà anni 90, è analoga alla rossa di protonevoso. Oh, guarda, quella è rotta. Poi, se ne vedo, devo prendere i passi salati. Poi ne maschiamo un po' lupo per andare a mangiare. Che cosa è quella? Quella seggio da senza. Allora. Ma se tanto non si può prendere in discesa. Da, un po' l' spooky. Guarda che ne stavite sì in invinto o no. È quella che stai, diceva... 5,5 o no? No, solo a voilà. Ci sono i precipiti, sì. mi chiedo perché mettere quattro cancelletti per una sola seggiviglia e dove sono fermo? ho capito come prendere il basso di salati con poca cola andiamo sulla specchiata della tavata ci mette un po' la cabina ad arrivare e intanto noi la prendiamo però si chiunque non è possibile Questa è la prima volta. Qui siamo a Bercelli Qui sei che la perde Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.